Gentili telespettatori, buona giornata. La decisione dei giudici su Cucchi Salvini e la signora di 72 anni. Secondo voi, tra la Cucchi Salvini e la signora di 72 anni, senza sapere la notizia, chi ci rimette? Qual è l'anello debole? La signora di 72 anni. Giusto? Ecco. Che cosa succede? Una signora di Terni, 72 anni, va su Facebook un giorno, va su Facebook e è capitata sotto gli occhi un articolo rilanciato da Vittorio Sgarbi che dava contro all'assoluzione della Cucchi per aver definito a sua volta Sciacallo Matteo Salvini. Quindi Sgarbi condivide il video che si parla dell'assoluzione di Cucchi, oggi parlamentare, per aver definito Matteo Salvini Sciacallo. Quindi dire a Matteo Salvini Sciacallo non porta nessun problema alla Cucchi. La Cucchi viene assolta perché dire Sciacallo a Salvini si può. Voi sapete che il povero Salvini purtroppo spesso a lui succede questo, a lui si può dire agli altri no. Perché? Il perché l'abbiamo visto tante volte in passato. Salvini fa parte dei cattivi, di quelli che oggi governano il paese, quel governo di cattivi. E in quanto cattivo Salvini, ai cattivi si può dire tutto, ma i cattivi non possono dire nulla. Pertanto dire a Salvini Sciacallo non è un'offesa che possa portare a reclusioni, a multe, niente, nulla di nulla. Il capitano quindi a lui si può dire qualsiasi cosa, ma la signora di Terni, quando ha visto il post di Vittorio Sgarbi, che nel post c'era l'assoluzione della Cucchi per aver definito a sua volta Sciacallo Matteo Salvini, la signora che cosa fa? La signora si arrabbia a casa sua col computer, la signora, l'anziana navigatrice in rete, che cosa fa? Risponde Sciacalla sarà lei. Scrive un commento alla Cucchi. Sciacalla sarà lei. Quindi la Cucchi dice Sciacallo a Salvini, viene assolta e la signora di 72 anni a casa sua dice alla Cucchi No, Sciacalla sarà lei, non Salvini. Che cosa succede? Arriva un verdetto di condanna che se lo becca la signora di 72 anni. Naturalmente, come vi dicevo prima, l'anello più debole dei tre. La Cucchi può dire Sciacallo a Salvini, assolta, ma la signora non può rispondere No, lei non può dire Sciacallo a Salvini, Sciacalla sarà lei. La signora non lo può dire. La Cucchi sì a Salvini, ma la signora che ribalta la cosa e dice sarà lei Sciacalla, non lo può dire. Eh sì, è grottesco. Quello che è un insulto per qualcuno non è per altri. E chi paga? Paga qualcuno che è sempre l'anello più debole. La signora di 72 anni, che passava un po' di tempo sui social, gli è passato sto post, ha detto adesso rispondo, Sciacalla sarà lei. E poi ha cambiato pagina, ha cambiato una roba da dieci secondi. Magari cercava notizie, perché eravamo nel marzo del 2021, cercava notizie sul covid e è capitato il post di Ilaria Cucchi. Naturalmente queste denunce non vanno avanti da sole. Voi direte, ma c'è tanta gente che odia sui social, dicono di quelle cose assurde. Sì, ma ci vuole sempre una denuncia, perché se voi contattate il social, dicendovi il social o non vi risponde, o vi dice che non ravvede nessun illecito, poi il social ti risponde se lei vuole si rivolga alla magistratura, nel caso la magistratura dica di rimuovere il video, il post, noi lo faremo. Spesso funziona così, no? Uno pensa che fare una denuncia al social ti porterà una soddisfazione, perché ammoniranno quella persona, gli cancelleranno il post, gli cancelleranno il profilo, invece non succede quasi mai nulla. Queste cose succedono quando c'è una denuncia alla magistratura e naturalmente se si dovessero denunciare tutte le persone che sui social scrivono cose del genere, credo che su 60 milioni di italiani ne rimarrebbero in circolazione un milione, gli altri 59 milioni sarebbero tutti in un enorme gigantesco carcere costruito di non so quante decine e centinaia di chilometri, perché se fosse automatico che appena dici una cosa su Facebook vieni condannato da un giudice saremmo tutti condannati prima o poi, solo che queste cose funzionano solo su denuncia, quindi per la signora di 72 anni portata in tribunale vuol dire che c'è qualcuno che è andato a sporgere denuncia contro la signora. Potete immaginare com'è andata. E così probabilmente la signora Cucchi era sul social la caccia di persone da querelare. Bene, comunque è paradossale questa situazione per questa signora di Terni. Pensate due mesi di reclusione, ma con pena sospesa, due mesi di reclusione, per aver scritto sciacalla sarà lei. Insomma, lei dice una cosa a Salvini, il giudice dice non è reato dire a Salvini sciacallo e la signora risponde con la stessa moneta e lei corre a querelare la signora perché la Cucchi può dire sciacallo ma non lo può ricevere e allora la povera signora ha due mesi di reclusione, ma con pena sospesa. Pensate un po'. Ecco, questa lezione con in cattedra questo verdetto descrive lo stato delle cose in Italia. Due pesi e due misure, dieci pesi e dieci misure. Grazie a tutti e arrivederci a presto.